Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Oggi in apertura di questo telegiornale ci occupiamo della manifestazione che si è tenuta questa mattina dinanzi al palazzo della prefettura di Salerno per dire no all'accorpamento dell'autorità portuale di Salerno a quella di Napoli. In piazza politici bipartisan, imprenditori e lavoratori. Sentiamo. Giù le mani dall'autorità portuale di Salerno con lo slogan in bella vista scritto su un container a bordo di un mezzo pesante. I lavoratori della comunità portuale di Salerno hanno portato in piazza questa mattina la loro protesta con un sit-in dinanzi al palazzo della prefettura per esternare al massimo rappresentante di governo Salvatore Malfi. La loro contrarietà all'accorpamento dell'autorità portuale di Salerno a quella di Napoli ma soprattutto per far sì che la loro voce possa arrivare a Roma. I lavoratori del porto commerciale di Salerno, i sindacati e da sottutela l'associazione degli operatori della comunità portuale questa mattina hanno ricevuto il sostegno anche di imprenditori dell'amministrazione comunale di Salerno. In piazza Mendola per contestare la riforma voluta ed approvata dal governo Renzi c'era anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore comunale Mimmo De Maio ed alcuni consiglieri comunali. Fermissima la volontà di dire no al corpamento perché sarebbe la distruzione del porto di Salerno, almeno secondo il mio punto di vista, ma praticamente lei sa che a Salerno c'è un indotto molto ampio, quindi non parliamo solamente di una categoria di persone o professionale ma di tutto l'indotto che penso sia agire sulle 1500 famiglie che vivono nel porto, trasportatori, spedizionieri, agenti marittimi e quant'altro. Quindi praticamente lascio immaginare se viene accorpato a Napoli, Napoli farà la parte del leone, a Salerno rimarrà ben poco e quindi anche a livello occupazionale penso che ci siano delle rigadute. L'accorpamento non è un'ipotesi perché oggi è già nero su bianco, c'è una proposta, è una riforma, insomma secondo lei ci sarebbero i margini affinché si possano modificare? Qualcosa si possa fare, siamo nelle mani dei politici. Nel decreto legislativo istitutivo dell'autorità di sistema portuale della Campania che prevede l'accorpamento delle autorità portuali di Napoli e Salerno e l'inglobamento anche del porto di Castellammare e di Stabia, Salerno sarà presente con il solo rappresentante espresso dal comune perdendo la titolarità nelle scelte strategiche dello scalo. La verità hanno rimarcato i lavoratori portuali e che al massimo Napoli possa essere accorpata a Salerno. L'infrastruttura partenopea non gode di ottima salute mentre il porto di Salerno rappresenta una delle poche grandi aziende della città di grande efficacia e redditività avendo conquistato negli ultimi anni importanti scenari sia a livello nazionale che internazionale. Fatto sbagliatissimo perché il porto di Napoli praticamente già sono anni che con anche l'autorità portuale è un periodo di crisi. Infatti è commissariato da anni e non riescono a dare una presidenza. Molte ditte che lavorano sul porto di Napoli hanno dei debiti nei confronti dell'autorità portuale. Quindi io voglio capire, noi come Salerno, che siamo il terzo porto in questo periodo, in questo anno, come produttività. Sarebbe il caso che Napoli si accorpasse a noi, non noi a Napoli. Quindi noi ci andremo a mettere sicuramente in una situazione poco chiara. Cosa vi aspettate da questa mobilitazione di oggi? Io mi aspetto che sicuramente si faccia un passo indietro e come altre realtà, come la Liguria, come la Puglia, come la Sicilia, anche noi avremo la possibilità di avere una seconda autorità portuale. Sembra anche giusto perché noi come porto di Salerno effettivamente siamo i terzi in Italia, ecco, come produttività. Quindi ci aspettiamo qualcosa di positivo. E questa mattina in piazza, come dicevamo, a sostenere la protesta dei lavoratori, anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed alcuni consiglieri comunali. Ferma la volontà di far sentire a Roma la voce di Salerno per dire no all'accorpamento. Impone una riflessione seria la vicenda dell'accorpamento dell'autorità portuale di Salerno a quella di Napoli. Il Comune di Salerno farà avvalere le sue tesi nella conferenza delle regioni convocata dal Ministero delle Infrastrutture a Roma, mentre i consiglieri di opposizione questa mattina hanno chiesto di sospendere i lavori della Commissione Bilancio per aderire al sit-in de Portuali, portando poi la vicenda in Consiglio Comunale. La situazione è più che difficile che impone invece riflessione attenta, considerazioni critiche e considerazioni costruttive. Noi faremo valere le nostre prerogative, come Salerno, nella conferenza delle regioni convocata con il Ministero delle Infrastrutture l'11 febbraio a Roma, dove porremo all'attenzione dei convenuti quali sono le nostre ragioni e che crediamo siano ragioni assolutamente solide, circostanziate e concrete. Il Porto di Salerno, fatto da uomini che hanno fatto dalla capacità produttiva il loro Vangelo, da maestranze assolutamente all'altezza delle situazioni che hanno reso questo scalo un'importantissima realtà produttiva della nostra città, hanno manifestato dei loro convincimenti, convincimenti che ci convincono, chiedo scusa del pasticcio. E quindi nel momento in cui ci convincono noi li faremo valere come argomentazioni nelle sedi più opportune. Il nostro non è un ragionamento campanilistico, le stesse maestranze e gli imprenditori del Porto hanno proposto delle macro aree, quindi non è un fatto di appartenenza localistica, è un ragionamento invece di piattaforma logistica che noi vorremmo fosse fino in fondo sviscerato. Non ci convincono gli accorpamenti che sono stati proposti, ma non ci convincono, ripeto ancora una volta fino alla nausea, non per motivi campanilisti, ma per motivi di ragione critica. Vogliamo capire quali sono le logiche sottese a queste considerazioni che sono state fatte e far valere, d'altro canto, con forza e con determinazione i nostri convincimenti. Salerno è una realtà che va salvaguardata. Raffaena Di Nolfi, anche il Consiglio Comunale, fa sentire il suo sostegno alla comunità dei portuali? Sì, noi abbiamo chiesto di sospendere i lavori della Commissione Bilancio per venire qui a esprimere la nostra solidarietà e siamo disponibili a firmare un ordine del giorno congiunto all'unanimità con la maggioranza perché sul futuro di Salerno non ci possono essere schieramenti partitici che abbiano posizioni differenti. Roberto Celano, per i portuali l'accorpamento sarebbe un vero e proprio strappo per la città di Salerno? Assolutamente sì e noi per questo presenteremo un ordine del giorno in Consiglio Comunale contro questa decisione nefasta per il territorio assunta dal governo Renzi con la complicità credo anche del Presidente della Regione perché altrove ricordo, perché non è un problema il numero delle autorità portuali ricordo che il Presidente della Regione Puglia addirittura ha voluto che ci fosse un'autorità portuale in più quella di Tarando e invece Zaia si è opposto all'eliminazione di autorità portuali nella sua regione quindi ci vuole maggiore determinazione anche della politica per evitare soprusi sul territorio. Il prefetto di Salerno Salvatore Malfi intanto si è assunto l'impegno di sollecitare il collega di Catania affinché a sua volta spinga il commissario della Tecnis ad autorizzare l'autorità portuale di Salerno al pagamento degli stati d'avanzamento del cantiere di Porta Ovest dove da due mesi i lavoratori non percepiscono lo stipendio i soldi sono in cassa ma sono bloccati. Sentiamo. È una questione tecnica e burocratica bloccare due mensilità ai lavoratori del cantiere Porta Ovest a Salerno problema frutto della gestione commissariale in cui la società Tecnis è piombata dopo alcune vicende giudiziarie. A Salerno i lavoratori rimangono in stato di agitazione almeno fino a quando non vi sarà certezza sul pagamento degli stipendi allettrati anche se i lavori di messa in sicurezza nel cantiere sequestrato sono di fatto terminati. L'opera può andare avanti solo se la magistratura autorizzerà la rimozione dei sigilli soluzione auspicata dalla stessa autorità portuale che ritiene strategico l'investimento con i fondi europei. Noi abbiamo un grosso problema quello che attualmente abbiamo gli operai che sono stati dichiarati in cassa integrazione cosa che certamente a noi non fa piacere attingere a un ammortizzatore sociale quando praticamente si potrebbe lavorare perché la Tecnis ha avuto un'autorizzazione per poter eseguire alcune lavorazioni dalla procura di Salerno ma nei fatti queste lavorazioni non vengono eseguite perché c'è un problema di mancanza di fornitura di materia prima. Questo perché? Perché ci sono dei fondi, dei soldi che sono bloccati in base a una normativa che lo prevede dall'autorità portuale che non possono essere liberati né a favore dei lavoratori né a favore di chi ha fornito praticamente materia prima, dei subappaltatori perché si sta aspettando un parere da parte dell'ANAC e del commissario nominato dal Tribunale di Catania, questo parere che tarda a venire. Su questa cosa abbiamo chiesto un intervento molto forte del prefetto di Salerno che speriamo sia incisivo perché credo che oramai sia l'ultima speranza che noi abbiamo perché i lavoratori devono avere due mensilità che sta creando non poche difficoltà economiche a questi lavoratori purtroppo. Ecco, ieri i lavoratori hanno incrociato le braccia, chiedono che l'autorità portuale possa sostituirsi alla Tecnis, un passaggio fattibile. Beh, ma diciamo che l'autorità portuale ha tutta l'intenzione di sostituirsi così come prevede la normativa ma nei fatti ha le mani legate perché sta aspettando questa autorizzazione. Ottemperato alla Dictat della Magistratura, versato quanto dovuto, la Crescent SRL ora attende il Via Libera per la ripresa dei lavori dell'emiciclo di Piazza della Libertà dove presto riprenderanno anche i lavori per il completamento della stessa piazza. Sentiamo. Potrebbe essere riaperto a breve il cantiere del Crescent in quanto attraverso il suo amministratore la società titolare dell'appalto ha ottemperato a quanto stabilito dalla magistratura ovvero effettuato un primo bonifico da 1.200.000 euro, stipulato una polizza assicurativa e garantita una fideiussione da 4.800.000 euro effettuata presso la Elite Insurance Company per coprire il resto dei costi per le opere di urbanizzazione. Ora il Comune di Salerno è nelle condizioni per dare il Via Libera. Venerdì scorso è stato rilasciato il permesso a costruire sulla scorta appunto dei versamenti degli oneri di urbanizzazione di una prima rata e poi della relativa polizza fissoria per la restante parte questo atto e questo permesso consentiranno agli operatori di poter richiedere il dissequestro della struttura del Crescent e quindi partire in tempi brevissimi i tempi necessari per allestire il cantiere e quindi dare poi il lavoro finito di tutta la struttura. Questo davvero fa pensare che i tempi possono essere ridotti non solo per l'avvio dei lavori ma anche per il completamento dell'opera? Sì, indubbiamente perché credo che rispetto alle opere a realizzarsi tranne l'otto 1, la parte ancora da realizzare la restante parte è quasi completamente dal punto di vista strutturale completata dal punto di vista diciamo delle compagnature esterne anche questo è stato realizzato quindi i tempi saranno assolutamente anche nel giro di un anno poter garantire credo il completamento dell'intervento. L'ospicio di tutti è che si possa completare il Crescent e di pari passo anche Piazza della Libertà. Sì, la procedura per quanto riguarda la individuazione dell'azienda che dovrà realizzare l'intervento per la messa in sicurezza della piazza è in fase avanzatissima. Credo nei prossimi giorni scadranno i 15 giorni che sono stati assegnati alle imprese per le loro giustificative per quanto riguarda i costi che significa che fatto questo lavoro possiamo stilare la gradatoria definitiva e dare avvio immediatamente ai lavori. Ed ora ci occupiamo di sanità il manager Vincenzo Vigiani lascia il ruggì d'Aragona di Salerno e ritorna alla Federico II di Napoli la decisione era nell'aria già da diverso tempo ma oggi non crea particolari imbarazzi ma è totonomine per la sua successione. Sentiamo. Tanto tono che piove Vincenzo Vigiani lascia la guida dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per andare a dirigere il policlinico Federico II di Napoli prendendo il posto del commissario straordinario persico deceduto qualche settimana fa. Una non notizia se vogliamo era questione di giorni, di ore ma il destino del manager era già segnato e con il suo stesso consenso Vigiani sapeva bene che il suo tempo la guida dell'azienda universitaria ospedalea di Salerno era finito lo aveva capito e gli era stato pure detto in maniera esplicita solo dopo la comunicazione ufficiosa si era poi abbattuta su di lui la tempesta mediatica con politica e mondo sindacale a bersagliarlo proprio perché già sull'uscio anche tutti gli scandali o pseudotali cui abbiamo assistito in questi giorni sono figli di una decisione già presa anzi concordata altrimenti non sarebbe stata già segnata la exit strategy ovvero la fuoriuscita da Ruggi e l'ingresso quasi in contemporanea al Policlinico Federico II una promozione in piena regola Vigiani sapeva bene che il suo tempo a Ruggi era passato quando De Luca ha vinto le elezioni sapeva che nella riorganizzazione della macchina sanitaria sarebbe stata la sua la prima testa a cadere ma non per inefficacia incapacità o peggio ancora inettitudine ma solo perché in politica funziona così piaccia o no del suo passaggio alla guida dell'azienda universitaria ospedaliera si ricorderanno essenzialmente due cose lo scandalo Fannulloni esploso proprio durante la sua reggenza ma di origini antiche ma anche l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso ora è caccia aperta al successore al momento potrebbe essere Giorbasio a reggere le sorti dell'ospedale fino a primavera quando poi ci sarà l'elenco dei nuovi manager dal quale attingere il nuovo direttore generale dell'azienda ma non si esclude la candidatura di Pietro Forestieri chirurgo salernitano dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II prossimo al pensionamento ma anche Matteo Casale già presidente della Corte d'Appello di Salerno intrigante per molti versi maliziosa anche la sponsorizzazione di Giovanni Cobellis ex dirigente della scuola di ostretrici a Ruggi zio dell'attuale consigliere regionale dell'Udc Luigi Cobellis che da tempo ricorda al governatore De Luca gli impegni assunti in campagna elettorale E restiamo in tema le strutture sanitarie in provincia di Salerno possono solo migliorare non rischiano alcun ridimensionamento rassicuranti le parole pronunciate ieri sera a Vallo della Lucania da Enrico Coscioni il consigliere particolare di Vincenzo De Luca ha ribadito l'impegno della regione Campania sentiamo cosa ha dichiarato quello che ci interessava è che non venisse messo in nessuna maniera a rischio l'area di emergenza urgenza adesso si tratta di fare il piano di ordine sanitario regionale e per quanto la provincia stiamo discutendo in maniera già molto fattiva anche con il nuovo commissario governativo che abbiamo avuto da poco rassicuranti le parole pronunciate ieri sera a Vallo della Lucania da Enrico Coscioni il consigliere particolare di De Luca ospite dell'incontro organizzato da Micidem al fianco dell'onorevole Simone Valiante ha ribadito l'impegno della regione Campania a tutelare la sanità in provincia di Salerno Coscioni ha ricordato che con la riorganizzazione regionale saranno solo implementati i servizi sanitari migliorata la rete del 118 e riorganizzate al meglio le reti delle emergenze e urgenze dovrà necessariamente essere rivisto anche il trasporto sanitario per adulti e migliorato quello neonatale io penso che possiamo solo migliorare purtroppo le nostre zone della provincia in particolar modo della sud della provincia sono state estremamente penalizzate negli ultimi anni io credo che dobbiamo soltanto implementare i servizi migliorare la rete del 118 riorganizzare meglio le reti di emergenza e di urgenza il trasporto sia quello degli adulti che quello neonatale lei sa che cosa scandalosa è questa di avere solo due ambulanze neonatali che sono tutte e due a Napoli città dobbiamo organizzare al meglio anche tutta la rete dei trasporti neonatali il piano di riordino regionale potrebbe essere pronto entro i prossimi due mesi se ne sta discutendo effettivamente con il commissario governativo Polimeni ogni decisione sulla riorganizzazione sarà presa solo dopo aver strutturato le reti di emergenza nel Cilento la cardiologia interventistica resterà a Vallo della Lucania Polla e Sapri faranno da Spoc centri ospedalieri per i ferrici dotati di utic senza emodinamica Coscioni che nei giorni scorsi ha ricevuto la proposta sulla sanità elaborata dai sindaci del Cilento e Diano ha rassicurato anche sui punti nascita Quello di Salvi fino ad adesso ha avuto una deroga adesso bisogna vedere nell'ambito della nostra contrattazione decentrata rispetto anche a quello che è l'intendimento nostro che sarebbe quello di salvarlo come farlo rientrare di nuovo in quell'area di deroga perché lei sa che per parametri nazionali i punti nascita sotto i mille nascituri annui andrebbero chiusi ma confidiamo di fare qualcosa di positivo I tempi per questa riorganizzazione? Ma io penso più brevi possibile diciamo che in un paio di mesi dovremmo avere il riordino sanitario regionale La cronaca una giovane donna morta almeno da una settimana è stata scoperta nella serata di ieri a Marigliano Vetere nel Cilento il corpo senza vita della 37enne originaria di Bellizzi è stata ritrovata in una casa dove la donna si era trasferita da due anni a far scattare l'allarme il compagno sagrestano della chiesa di Maiano che ha chiamato l'agenzia di pompe funebri dicendo di averla trovata senza vita in casa sul posto anche i carabinieri la salma è stata trasportata presso l'ospedale San Luca di Vallo della Luicuania a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'autopsia Uranio impoverito dalla provincia di Salerno che ha contato tre servitori dello Stato morti negli ultimi mesi arriva un'altra triste storia è quella del brigadiere Francesco De Angelis militare dell'arma dei carabinieri costretto a lasciare il servizio dopo essere stato colpito da un tumore il comitato di verifica ha bocciato la domanda di risarcimento per causa di servizio che aveva presentato nel febbraio del 2011 De Angelis è convinto che il tumore maligno contro il quale lotta da sei anni derivi dall'esposizione all'uranio impoverito contratto durante la sua missione in Bosnia sentiamo la malattia mi ha colpito sia al polmone dove ho avuto un'operazione che mi è stata tolta il polmone destro e in più poi c'è stato nel 2010 sono stato operato e tolto il polmone destro medio inferiore del polmone destro e nel 2015 no nel marzo del 2014 nel marzo del 2014 c'è stata la ricomparsa della malattia al cervello dove sono dovuto ricorrere a ulteriori controlli e tutto il resto e sono non sono stato operato al cervello ma ho avuto una radioterapia specifica al cervello che si chiama stereotassi dove sono state incappusolate queste ghiandole e portate a regredizione io sono andato via dall'arma dei carabinieri con molto rammarico e non mi ha nessuno ma viene da piangere perché i larmi non li sono lasciati né oggi né di vada questo è stato nato i 10 anni che cosa chiede allo Stato cosa hai chiesto che non ti ha dato lo Stato non se ne è fregato proprio perché comunque alla fine io sono andato via il 31 marzo dopo che alla fine comunque ho dato tanto per lo Stato e tutto il resto dove io ho fatto una domanda di causa e servizi motivandola perché sono stato pure all'estero e loro mi dicono che non mi viene riconosciuta a me come Francesco De Angelis perché non ci sono i presupposti di legge quando poi vado a vedere che ci sono altri colleghi che gli è stata riconosciuta per l'Uranio in Bosnia che sono state dopo di me in Bosnia non prima di me dopo di me e allora che vuol dire che ci stanno due pesi o no come la vediamo noi che cosa chiedi adesso all'opinione pubblica io chiedo per me ma pure per quei ragazzi che sono deceduti ultimamente nella provincia di Salerno io devo vivere per loro e per tutti quelli che non sono riusciti a fare quello che sto facendo io oggi dobbiamo andare avanti contro uno Stato che effettivamente sì siamo servitori dello Stato abbiamo servito ma poi alla fine che fa ci abbandoni perché uno a Roma mi deve dire Bar mi ha riformato per una prima Casetta mi ha dato una settimana e Roma mi dice no non ne vuoi errar siamo impegnati al 100% per risolvere un problema del quale non siamo la causa sono queste le parole del sindaco di Capaccio Italo Voza il quale coadjuvato dalla sua giunta dal suo staff e dall'intera maggioranza consigliare sta approfondendo ogni energia per scongiurare l'installazione sul territorio comunale dell'ormai nota centrale a biomassa ancora polemiche per la centrale a biomassa che potrebbe sorgere a Capaccio in località Sorvella Sabatella questa volta a finire al centro delle critiche la stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Italo Voza a chiamarle in causa il delegato del WWF Italia Piernazzario Antelmi intervenuto alla manifestazione di protesta di sabato scorso ho guardato le carte spiega il rappresentante dell'associazione ambientalista ed ho trovato il piano triennale delle opere pubbliche 2012-2014 nel quale l'impianto a biomassa era previsto dal comune con un finanziamento di 7 milioni di euro vorrei capire allora se l'ente voleva farlo oppure no per Antelmi l'amministrazione comunale non sarebbe quindi esente da colpe a finire nel Mirino una delibera approvata il 12 giugno 2012 nel quale è inserita tra le opere pubbliche una centrale elettrica per la produzione di energia elettrica utilizzando biomassa e fonti assimilate e per le quali è stimato un costo di 7 milioni di euro polemiche a parte però il rappresentante dell'associazione ambientalista non dà per scontato che l'impianto possa realmente vedere la luce ho impegnato un ingegnere ambientale che nel mese di aprile è venuto sul posto ed ha analizzato tutti i documenti spiega Antelmi individuando almeno una ventina di punti su cui attaccare il progetto ci sarebbe quindi uno spiraio per evitare la costruzione della centrale biomassa ma la via della mobilitazione non sembra la strada da seguire sabato accusa Antelmi mi è sembrata più una giornata di filone a scuola che una manifestazione consistente ed ancora cronaca i carabinieri di Vallo della Lucania e di Pollica coordinati dalla procura della repubblica del tribunale di Vallo hanno apposto i sigilli ad una struttura turistica che stava per essere ultimata nel parco nazionale del Cilento ma secondo gli inquirenti presenterebbe delle irregolarità si tratta di un residence turistico che sarebbe sorto a Pioppi e capace di ospitare 25 mini appartamenti sequestrata l'aria oggi sono 9 gli indagati continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale ma ora è il momento di dare spazio alla regia per la pubblicità a tra poco ed andiamo avanti con il nostro telegiornale la tratta ferrata siciliano Lago Negro torna alla ribalta lo scorso 26 gennaio delibera di giunta del comune di Sala Consilina per l'attribuzione di incarico dall'avvocato in seguito ad una citazione di giudizio giunta al comune da rete ferrovie italiane per la copertura con asfalto di binari in località Santa Maria della Misericordia sentiamo una delibera di giunta dello scorso 26 gennaio ha riportato l'attenzione del Coda Consvallo di Diano sulla tratta ferrata ed in particolare sul tratto che è collegato Atena Lucana e Sala Consilina e precisamente in località Santa Maria della Misericordia oggetto più volte da parte del settore trasporti del Coda con su di interventi il responsabile Roberto De Luca ha più volte segnalato e portato all'attenzione la vicenda che ha visto una parte del tratto coperto dall'asfalto ricordando che il tratto della ferrovia ed in particolare i binari sono di proprietà di rete ferrovie italiane il comune è stato citato in giudizio per oggi dalla società al fine di chiarire e anche per richiedere il ripristino dei luoghi essendo scaduti i termini di autorizzazione concessi la vicenda era già stata riportata recentemente alla ribalta in considerazione anche della notizia della manifestazione di interesse da parte del comune di Sala Consilina all'iniziativa di realizzare presso le stazioni ferroviarie abbandonate un ospedale diffuso da questo progetto il responsabile Coda con Roberto De Luca sottolineando la volontà di proseguire sempre nella battaglia per ripristinare il servizio ferroviario nel Vallo di Diano aveva anche avuto modo di ritornare sulla vicenda dei binari coperti dall'asfalto successiva il 20 gennaio data della delibera per la manifestazione di interesse per l'ospedale diffuso e precisamente il 26 gennaio arriva un'altra delibera per il conferimento in carico di un avvocato per costituirsi in giudizio presso il tribunale di Lago Negro nel giudizio promosso da Rete Ferrovie Italiane e notificato all'ente lo scorso 14 ottobre 2015 l'udienza fissata per oggi è finalizzata ad accertare e dichiarare che lungo la linea ferroviaria nel tratto compreso tra le stazioni di Atena Lucana e Sala Consilina il comune di Sala Consilina non ha provveduto al ripristino della sede ferroviaria allo scadere dell'autorizzazione provvisoria ad approntare un attraversamento di detta sede parimenti si legge ancora nella delibera accertare e dichiarare che lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Atena Lucana e Sala Consilina in località Santa Maria della Misericordia è stato collocato uno strato di asfalto di larghezza media pari a 5 metri circa all'interno della proprietà ferroviaria pertanto per il comune di Sala Consilina di Sala Consilina alla rimessione in pristino dei luoghi di causa ordinando l'eliminazione delle opere realizzate e mantenute in spregio alle norme teste citate e comunque violazione della proprietà e delle attribuzioni di RFI S.P.A. Avevamo espresso dei dubbi spiega il responsabile Codacons Roberto De Luca proprio sulle stesse anomalie rilevate da RFI ed elencate nella delibera a distanza di giorni viene fuori che la questione è tutt'altro che definita anche se viene adesso affrontata sul piano civile ci auguriamo che il rete ferrovie italiane si sia già attivata alla stessa maniera anche nei confronti dell'amministrazione comunale di Polla per il binario ricoperto di asfalto al passaggio a livello in pieno centro cittadino così tanto per non vivere solo di sogni e di ricordi ma anche di cose concrete Ed ora voltiamo pagina il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica alla pagina degli appuntamenti a carnevale arriva la fantasia al centro commerciale Le Bolle all'uscita autostradale di Eboli martedì 9 febbraio sfilata delle burle e dalle ore 16 sfilata di maschere in galleria animata dal cappellaio Matto trist di domeniche di divertimento poi a partire da domenica 14 febbraio il mio amore in un click nel giorno di San Valentino tutti gli innamorati possono farsi fotografare in galleria centro commerciale Le Bolle uscita autostradale Eboli Andiamo ti divertirai te lo prometto E parleremo di sport di calcio subito dopo la pubblicità non è andata bene la trasferta di ieri sera della Salernitana alla Spezia ma guardiamo insieme anche le previsioni del tempo a tra poco in collaborazione con e le previsioni del tempo Grazie a tutti. 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 Hai un rammarico perché avevi preparato già il cambio di Oger per Zito e è arrivato il rigore proprio un minuto prima? E' vero. Grazie a tutti. 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 Soffriamo la loro qualità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.